Buongiorno a tutti, sono Michele Palladino, proprietario e coach di CrossFit Salerno. Oggi, lunedì, proponiamo come allenamento del giorno delle skill di ginnastica avanzate. Quindi, è bene fare un riscaldamento specifico e propongo due round non for time di 5 strict pull up e 10 high squat. Poi, successivamente, altri due round non for time di 5 strict chest to bar pull up e 6 pistol squat. Poi, passiamo alle skill e abbiamo un emom di 14 minuti in cui facciamo nei minuti dispari 3 strict muscle up. Quindi, facciamo strict chest to ring più strict ring dip e nei minuti pari 4 kettlebell pistol squat. Quindi, due con la gamba destra, due con la gamba sinistra. Infine, workout abbiamo, per gli avanzati, abbiamo un regional Nasty Girl che consiste in 3 round di 50 pistol squat, 7 ring muscle up e 10 hang power clean. 80 kg maschile e 50 kg femminile. Mentre, la versione per gli intermediati, abbiamo Nasty Girl, 3 round di 50 high squat, 7 ring muscle up, 10 ring power clean. Qui, il carico scende a 60 kg maschile e 40 kg femminile. Mentre, per il beginner, abbiamo sempre 3 round di 50 high squat, 7 ring muscle up e 10 ring power clean. Quindi, il carico scende ancora a 40 kg maschile e 25 kg femminile. Vai ragazzi!